Al Salone Internazionale del Libro di Torino non possono mancare ospiti d'eccellenza che aiutano a rendere famosa la nostra città. Zero Calcare, il fumettista che ha mostrato nella sua serie tv diversi scorci di Biella, ha tenuto due giornate di incontri con i suoi fan, una con il firmacopie dei suoi libri, l'altra con una conferenza sul palco dell'Arena Robinson. Molti sono accorsi per poterlo vedere. La coda per il firmacopie è stata ad un certo punto bloccata per la grande affluenza di persone che continuava ad arrivare. Durante la conferenza è stato proiettato anche il trailer della sua nuova serie, che uscirà su Netflix il prossimo 9 giugno, intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo. I temi affrontati saranno ingiustizie, amicizie interrotte e le difficoltà affrontate per trovare il proprio posto nel mondo. Una novità che è stata svelata è la presenza di un nuovo personaggio nella storia, chiamato Cesare, che si unirà agli altri già conosciuti.